Una cosa che ci tengo molto a dire, io ho un modo un po' particolare di scrivere e insieme a Damiano Bruelisa Riccardi che hanno scritto come il soggetto e Marco Bonini che poi in quattro abbiamo scritto la sceneggiatura abbiamo lavorato su questa idea, ma io ho un modo un po' particolare nel senso che non arrivo alla stesura definitiva della sceneggiatura e poi cerco gli attori che per interpretare quei ruoli, ma arrivo fino al 60% e poi cerco gli attori e insieme agli attori cerco di tirare giù la stesura e quindi io voglio ringraziare Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano perché sono entrati dentro il processo creativo del film, nel senso che al di là di dire faccio il film o lo faccio, io ho fatto lunghe piacchierate con Marta prima di stendere la stesura definitiva su come in Spagna vedevano il ruolo della donna, su come rappresentare un ruolo di donna in gioco, anche riuscendo a parlare in maniera delicata della sua fisic d'uro, della sua fisicità parla di... ecco, queste grandi discussioni che abbiamo fatto ma ne abbiamo parlato a lungo sono entrate dentro la stesura di questa sceneggiatura e quindi vi voglio ringraziare non solo per il modo secondo me straordinario in cui hanno fatto i loro personaggi ma per essersi messi a disposizione in maniera molto personale con questo progetto.